Buonasera a tutti, buonasera agli amici che vedo parte di questa squadra a cui sono molto legata non soltanto per il valore scientifico che rappresentano ma soprattutto per l'impegno etico che ognuno di loro mette nel proprio lavoro. Stasera si parlerà molto di prova scientifica, del valore della prova scientifica oltre che del presente e del futuro della criminalistica in Italia ma io ho citato volutamente l'espressione etica perché quando si parla di scienza e quando si parla di verità la verità ha necessariamente a che fare con l'oggettività e con la propria etica personale perché si può osservare la verità soltanto se si è scevri da altri condizionamenti, da altri ragioni per cui si fa il lavoro del consulente scientifico, del perito e del criminalista in questo caso. Io sono molto orgogliosa di essere qui questa sera e sono non soltanto nella veste di presidente dell'impef ma anche di presidente dell'Istituto Nazionale per la Formazione che accompagnerà l'impef in tutto il suo percorso di attuazione della formazione. ma soprattutto sono qui perché oltre a essere il presidente sono anche un consulente tecnico di parte. Ho scelto nella mia professione di essere solo di parte perché mi piace essere dalla parte di chi cerca la verità e la giustizia e sono un po' invidiosa questa sera perché si può parlare in questo momento in Italia di prova scientifica nell'ambito della criminalistica. Io che mi occupo di famiglia e di minori nel nostro settore, ben lo sanno anche gli allievi e i colleghi che ci stanno seguendo, quanto invece l'interpretazione a cui siamo spesso sottoposti dei comportamenti e delle osservazioni che si fanno in ambito peritale per quanto riguarda ad esempio la valutazione delle capacità genitoriali, profili delle persone, i comportamenti dei bambini, la prova scientifica lambisce soltanto quello che può essere il nostro lavoro e molto spesso quando io porto delle osservazioni oggettive mi sento dire che è fantascienza. Allora tra la fantascienza e la scienza credo che è proprio il nostro impegno da scienziati ma anche da professionisti etici consapevoli del fatto che come abbiamo sempre detto le ferizie si determinano le sentenze ma le sentenze possono determinare e lo fanno il corso della vita e la storia di migliaia di persone e determinano anche le scelte politiche nel nostro paese. Non è da poco quello che stiamo cercando di fare, l'operazione verso la verità che passa attraverso anche un impegno nella criminalistica che gli scienziati presenti questa sera già da molto tempo nella loro vita la applicano e non avevano certo bisogno di una nuova norma a riguardo per sostenere il valore della prova scientifica. Quindi se è questo che ci deve portare ad un impegno che non è soltanto in qualità di scienziati ma in qualità di cittadini onesti professionisti in etica. Bene, passiamo attraverso la prova, passiamo attraverso la serietà e la professionalità con cui si deve fare il lavoro e passiamo anche attraverso la formazione fatta in maniera concreta e soprattutto legata a quelli che sono gli sviluppi, a quelle che sono le scienze. Io mi permetto di ringraziare ad uno ad uno ognuno di voi perché so che vi siete impegnati molto e che avete voluto con forza questo evento e anche la modifica di alcuni percorsi formativi. Io ringrazio il professor Barone che ha proposto proprio un percorso insieme alla professoressa Di Maggio, un percorso di criminalista criminalistica raccogliendo immediatamente l'entusiasmo, la messa a disposizione dei professori Marina Baldi, Luigi Sabatella, Nicola Caprioli e non ultimo certamente il generale Garofano. Salutiamo, non sappiamo se potrà collegarsi con noi, il professor Vanin, entomologo forense che si trova in questo momento su una barca e se potrà si collegherà con noi perché sta facendo un esperimento scientifico sottomarino. Quindi se lo vedremo comparire a un certo punto gli daremo la parola perché vuol dire che è riuscito a collegarsi, ci siamo sentiti nei giorni passati quindi sarà veramente un po' come si dice il bello della diretta. Io sono molto desiderosa di sentire le relazioni di questa sera, saluto tutti i nostri allievi ma anche tutto il pubblico che ci sta seguendo, che è un pubblico affezionato e sa che quando noi facciamo formazione la nostra formazione è differente perché il punto di vista da cui partiamo è sempre l'informazione corretta e la ricerca, il sacrificio che ognuno di noi ha messo e mette e metterà sempre al servizio della verità. Sì, io avrei tantissimo da dire ma ovviamente non dirò nulla al riguardo e continuerò a riflettere insieme a tutti noi e uso l'espressione noi perché dà il valore della squadra su quello che è stato sostenuto questa sera. Mi piacerebbe portare i concetti che qui sono stati ampiamente declinati della criminalistica proprio nel mio personale settore che è quello delle consulenze tecniche che riguardano soprattutto i minori e i loro genitori. Laddove l'essere consulente di parte quando lo si è, e questa sera si è usato tanto l'espressione in scienza e coscienza, quando lo si è in scienza e coscienza davvero dovrebbe essere applicato al di fuori delle varie scuole di pensiero. A differenza di una traccia ematica a differenza di un'impronta e a differenza di quella che può essere la terra sotto i piedi, l'interpretazione dei comportamenti delle persone, della sofferenza delle persone che si analizza in quelle che sono le CTU nelle quali io sono il consulente di parte, è soggetta a infinite interpretazioni a seconda della scuola di pensiero in cui si va a collocare il CTU. Per cui quello che viene asserito in una CTU che si fa con Mario Rossi nelle stesse condizioni non è quello che si va ad asserire in un'altra consulenza. Quindi il punto non è quanto il consulente di parte sia strattonato di qua e di là. Il punto è quante scuole di pensiero esistono in Italia e nel mondo sulla interpretazione dei comportamenti, degli atteggiamenti e dei profili di personalità. Sempre ricordandoci che laddove la scienza è variabile e laddove la coscienza è stata sedata perché si è asserviti a interessi di altre parti e si è asserviti a questa o quella scuola di pensiero, noi abbiamo laddove appunto ci sono due elefanti che litigano, ricordiamoci sempre che a soffrire è l'erba, a soffrire le vere vittime sono sempre quelli che sono i più fragili e quindi io mi batterò sempre perché anche all'interno delle consulenze tecniche d'ufficio dove si valutano i comportamenti genitoriali e laddove si stabilisce che un bambino possa non vedere più il padre o la madre o i propri genitori o cambiare genitori e così via, anche lì si possa individuare lo strumento scientifico affinché la verità sia la migliore soluzione possibile e non ci possano essere infinite variabili, infinite scuole di pensiero e quindi infinito dolore senza chiamare neanche in causa tutta la filiera che spesso governa questi processi. Io vi ringrazio per avere sostenuto la scienza e la coscienza di cui non possiamo fare a meno. Vi ringrazio per la professionalità e per l'entusiasmo che mettete non solo nella formazione di questo, vi ringrazio ancora, ma per l'entusiasmo e la professionalità e l'attenza e l'onore e l'orgoglio con cui portate avanti il vostro lavoro di ogni giorno nel dare una speranza perché come diciamo sempre la speranza della giustizia è quasi più importante della giustizia stessa e con questo nuovo progetto di criminalistica pura, tra virgolette, all'interno dell'INPEF io spero davvero che possiamo dare un contributo sociale oltre che un contributo scientifico e mi troverete sempre a fianco non solo della umanità che soffre, delle persone più fragili ma soprattutto a fianco di coloro che lottano per la scienza, per la verità e per l'etica in un settore così complicato laddove l'osservazione, l'osservazione senza aggiungere interpretazioni ma l'osservazione dell'ovvio che ha bisogno di essere allenato, ma ricordiamoci che non ci si può allenare se non si è profondamente onesti, bene, in questo campo noi ci siamo e continueremo a esserci come squadra come amici e come grandi scienziati. Io vorrei dare ancora la parola a qualche minuto al papà di questa iniziativa perdonami Piermatteo, professor Barone, se ti chiamo papà, di questa iniziativa di questa sera ma anche del nascente percorso che va ad arricchire quella che è già l'offerta formativa dell'INPEF in ambito forense, nell'ambito delle consulenze tecniche, della criminologia, della criminalistica, delle investigazioni, delle tecniche di cui ci occupiamo tutti i giorni all'interno dell'INPEF ma appunto anche di questo nuovo percorso e di questa nuova avventura. Quindi se non ci sono altri interventi, Marina, Nicola, Luigi, Rosa Maria, io passerei la parola in conclusione al professor Barone. Ditemi voi. No, solo un caro saluto ed è un piacere per noi far parte della famiglia. Grazie, grazie Marina. Noi ci chiamiamo tutti per nome, anche se questa sera abbiamo usato i titoli alla professionalità, ma il bello è proprio lavorare in armonia e in amicizia.